Il campionato 2 a 0 alla Pescara, il dodicesimo scambio Orlando Shalimov per Ruben Sosa che non inquadra la porta. Alla quarto d'ora Berti lancia sulla destra Orlando che mette al centro, Fontolan si alza più di tutti e sfiora il palo destro. Alla ventinovesimo il Pescara rischia all'autorete su questo cross di Ruben Sosa deviato da Alfieri. Un minuto dopo De Agostini lambisce il palo. E dopo tanto attaccare arriva il gol dell'Inter, scambio Fontolan-Ruben Sosa che dai 16 metri realizza la sua undicesima rete stagionale. Al trentanovesimo e al quarantunesimo la reazione del Pescara si concretizza con Palladini. Prima è Walter Zenga che para in due tempi, poi ancora Palladini scheggia il palo sinistro. Passiamo alla ripresa, al quarto minuto Zenga salva il risultato sul colpo di testa di Borgonovo. Ancora il Pescara al sedicesimo, Allegri dai 25 metri sopra la traversa. Gli abruzzesi poi restano in dieci, al ventiseiesimo Alfieri stende Orlando lanciato a rete. Cartellino rosso. Alla mezz'ora lungo lancio di De Agostini per Schillaci che evita Marchioro ma colpisce solo il palo. E al trentaquattresimo Ruben Sosa chiude la gara Orlando di testa di Berti e al volo Ruben Sosa fa due a zero dodicesima rete per lui. L'Inter finisce la partita increscendo e ancora una volta è il suo uruguaiano ad andare vicino al gol, vicino alla doppietta.